Moltissime cose interessanti in corsa con DJI questa settimana. Non è facile tenere al passo. Un aggiornamento fondamentale per il Mini 3 Pro. Nuovo firmware per il velivolo e il telecomando. Una nuova versione di DJI Fly Up con molte funzionalità importanti e utili. Il telecomando RC è finalmente compatibile con l'Air 2S, il che renderà molto felici molti possessori di questo modello. E infine il Mavic 3 Classic, la versione più abbordabile del modello di punta, in uscita tra pochi giorni. In questo video mi concentrerò sugli aggiornamenti del Mini 3 Pro, perché ce ne sono moltissimi, alcuni dei quali molto utili. Assicuratevi di avere una connessione internet e quando il drone è connesso, sullo schermo apparirà un messaggio sull'aggiornamento. In caso contrario è possibile forzare l'aggiornamento andando sui settings nella scheda About per verificare la disponibilità di aggiornamenti firmware. Assicuratevi di avere batteria sufficiente nel velivolo e nel controller. Il processo dura circa 15 minuti. Una volta terminato, il firmware del drone, quello del controller e l'app di DJI Fly sono tutti aggiornati alla versione attuali. Quando si utilizza una batteria diversa, l'aggiornamento deve essere eseguito di nuovo, ma a questa volta ci verranno soltanto pochi minuti. Le note descrivono il supporto per una trasmissione migliorata. Facciamo un rapido controllo. Con la mia unità ho sempre riscontrato un segnale molto scarso in aree con interferenze. È la mia unica lamentela di rilievo, sull'altrimenti eccellente Mini 3. Alcuni utenti sembrano avere problemi simili, mentre altri sono perfettamente soddisfatti del segnale. Ovviamente la trasmissione varia moltissimo in funzione della posizione geografica. Fatemi sapere nei commenti com'è la trasmissione dalle vostre parti. Questa è un'area in cui faccio molti test con i miei droni. Ci sono diversi villaggi, uno dopo l'altro. Qui tutti portano almeno un cellulare, quindi c'è una buona dose di interferenza. Iniziamo in una direzione di interferenza media, dove generalmente ottengo i migliori risultati. Nei test precedenti potevo volare a circa 6-700 metri prima di perdere connessione. Vediamo se riusciamo ad andare oltre. A 700 metri il segnale è ancora molto buono e anche a 1000 metri non ci sono problemi. Non cercherò di andare oltre un chilometro in quanto è contro il regolamento e non ho mai bisogno di andare oltre, né per video che per foto. Quindi in un'area di media interferenza il miglioramento è enorme. Proviamo adesso nell'altra direzione. In cima alla collina ci sono enormi antenne di comunicazione e la trasmissione è pessima. Ho sempre avuto gravi problemi di segnale qui. Vediamo se questa volta riesco a superare la cima della collina. Ma il segnale è molto scarso e non riesco a scollinare, più o meno come prima dell'aggiornamento. Quindi la trasmissione per me sembra essere migliorata molto in condizioni medie, ma non in quelle più difficili. Comunque, un ottimo risultato. Sono molto soddisfatto. Verifiamo ora le nuove opzioni per l'esposizione in modalità Pro. Poiché il Mini 3, come alla maggior parte dei droni di ProSumer, ha un'apertura fissa, abbiamo soltanto due parametri da impostare per l'esposizione. ISO e tempo di posa. Se apriamo la finestra per l'esposizione in modalità Pro, notiamo due nuovi pulsanti Auto per ISO e tempo di posa. Più in basso c'è il solito valore MM che indica la luminosità risultante dai valori dei due parametri rispetto alla corretta esposizione secondo l'app. Questo valore non può essere modificato. Adesso possiamo impostare uno dei due valori, ISO o velocità dell'otturatore, come Auto. Diciamo che vogliamo un valore fisso per ISO. 100. Per ottenere la migliore qualità possibile. In questo caso impostiamo ISO su 100 e Shutter Speed su Auto. Al cambiare della luminosità soltanto il valore del tempo di posa sarà modificato per mantenere la luminosità corretta. Si noti che il valore MM è diventato EV, valore di esposizione, e può essere modificato. Trovo che il livello di luminosità suggerito sia troppo alto, quindi preferisco abbassare il valore EV a meno uno per evitare sovraesposizione. In altre occasioni vogliamo avere un valore costante per la velocità dell'otturatore, in molti casi un cinquantesimo di secondo, per ottenere la quantità corretta di motion blur, supponendo che stiamo utilizzando una frequenza di 24 fotogrammi al secondo. Quindi impostiamo Shutter Speed su un cinquantesimo di secondo e ISO su Auto e questa volta all'aumentare o diminuire della luminosità varierà soltanto il valore ISO. Possiamo anche scegliere di mettere entrambi i valori su Auto. In questo caso la situazione è molto simile all'utilizzo dell'esposizione automatica, ma ci sono parecchi vantaggi. In modalità Auto non abbiamo alcuna indicazione dei singoli valori per ISO e Shutter Speed, mentre utilizzando questo metodo possiamo vederli entrambi. Il valore ISO viene modificato con incrementi molto più piccoli rispetto alla modalità manuale, dove possiamo spostarci soltanto di un intero stop. Osservando tantamente notiamo che i cambiamenti luminosità sono molto più fluidi rispetto a quanto otteniamo in modalità Auto. Il video verticale è una caratteristica importante del Mini 3. Per molti utenti coinvolti nelle piattaforme di social media. Un aggiornamento precedente ha aggiunto la possibilità di schettare Hyperlapse in modalità Portrait. Quest'ultimo aggiunge la possibilità di realizzare Master Shot in formato verticale. Vediamo come funziona. Ruotiamo semplicemente la fotocamera in orientamento verticale toccando a questa icona. Quindi nel menu foto-video scegliamo Master Shots. Selezioniamo il bersaglio disegnando un riquadro attorno ad esso. In questo caso questo ampio edificio e premiamo l'otturatore verde. Per alcuni secondi il programma valuta la scena quindi per un paio di minuti eseguirà una serie di movimenti automatizzati attorno al bersaglio. Se volete saperne di più su Master Shot potete guardare il mio video su questo argomento. Posterò un link alla fine di questo. Secondo le note della Date l'app DJI Fly adesso supporta l'uso di obiettivi grandangolari. DJI ne propone uno per espandere il campo visivo da 81 gradi fino a 114 con foto e da 75 a 100 con video. Ce ne sono anche diversi altri proposti da terze parti ma devo ammettere che non li ho ancora provati. Un'altra novità molto interessante è la possibilità di aggiungere nitidezza e riduzione del rumore a filmati girati sia in modalità normale che è Disney Like. Funziona anche con le foto. È una funzionalità gradita che era stata richiesta da molti utenti. Nella scheda camera delle impostazioni adesso è presente questa nuova funzione Style con due cursori. Uno per la nitidezza con 5 livelli da meno 2 a più 2 e un altro per la riduzione del rumore con 4 livelli da meno 2 a più 1. Iniziamo con nitidezza. Questo è un filmato girato con valore 0 per sharpness. Quando porto il valore a meno 2 possiamo chiaramente vedere che la scena diventa immediatamente molto meno nitide. Adesso da meno 2 vado al valore massimo più 2 e la differenza è ancora più evidente. Ma diamo un'occhiata a due filmati faccia a faccia. La differenza è molto netta. La scelta è una questione di preferenza quindi fatemi sapere nei commenti la vostra opinione. Ho sempre trovato che le riprese fatte con il mini 3 mancano appena di un tocco di dettaglio. Con il valore più 2 il risultato è un po' troppo nitido ma sono molto contento di più 1 per avere quel tocco di dettaglio in più. In ogni caso questo cursore è una novità molto gradita. Proviamo adesso con noise reduction. In questa ripresa dall'alto devo spingere l'iso al valore massimo 6004. Normalmente non farei riprese con un valore così elevato ma ai fini del nostro test questo può essere utile. C'è ovviamente moltissimo rumore. Quando imposto lo slider noise reduction su meno 2 notiamo ancora più rumore e un pochino di dettaglio in più. Quindi imposto lo slider su più 1 e notiamo chiaramente una diminuzione del rumore ma l'immagine perde moltissima nitidezza. Sono meno intrigato da questo cursore poiché uso sempre l'eccellente Neat Video per il denoising e con questo programma il rumore nel video è una cosa del passato. Troverete informazioni su Neat Video nella descrizione oppure potete guardare il mio video a riguardo cliccando sul link in alto. Prima il cursore Sharpness questa volta con delle foto. prima il cursore impostato su 0 poi su meno 2 e infine su più 2 anche in questo caso la differenza nei dettagli è molto evidente. Il dispositivo di riduzione del rumore funziona con le foto ma con le immagini fisse scattate con il Mini 3 il rumore non è un problema poiché possiamo utilizzare tempi di posa molto più lunghi rispetto al video inoltre l'apertura molto ampia di f1.7 cattura moltissima luce cliccate su questo link per guardare il mio video sui Master Shot con il Mini 3 Pro e non dimenticate di premere il pulsante mi piace se avete trovato questo video interessante grazie grazie